Ciao, sono Francesco Posati e ho deciso di lanciare questa petizione, reinserire l'IPA tra i pubblici elenchi per le notifiche telematiche. L'Italia sta vivendo un'emergenza sanitaria a causa del Covid-19 coronavirus, che sta incidendo profondamente nelle relazioni interpersonali con pesanti ricadute nell'ambito del lavoro e nello specifico nell'ambito della giustizia. Il Governo sta adottando tutte quante le misure per ridurre al minimo la diffusione del virus, favorendo anche lo smart working e l'implementazione di tecnologie digitali all'interno del lavoro e i pagamenti telematici. Nella giustizia il Governo infatti ha disposto l'obbligo del deposito telematico di tutti quanti gli atti nei tribunali e nelle corte d'appello fino al 31 maggio del 2020 e favorendo anche l'impiego di tecnologie remoto per consentire le udienze, sia civili che penali. Ma non basta, dobbiamo fare di più, possiamo fare di più. A causa dell'emergenza sanitaria, una delle attività più importanti nell'ambito della giustizia, la notificazione degli atti giudiziari è fortemente preclusa, è ferma con gravi ricadute e pregiudizi per quanto riguarda i diritti, sia per la sospensione dei termini che è stata disposta dal Governo con decreto legge 11 del 2020, sia soprattutto perché gli ufficiali giudiziari stanno riducendo al minimo le uscite e il contatto interpersonale, tant'è vero che ci sono delle pesanti ricadute nell'ambito anche dell'accesso degli uffici stessi giudiziari. Qui sotto, come nella descrizione, ti spiego il motivo perché è importante che il Governo con decretazioni d'urgenza corregga una precedente omissione. Grazie alla rete ora tocca a noi. Ancora di più in questo momento possiamo fare rete. Sottoscrivi, sostieni, condividi nella tua rete sociale questa petizione e diffondi virtualmente questa petizione. Ti ringrazio. Lunga vita e prosperità. Andrà tutto quanto bene.